Non posso più prendere alcun mezzo pubblico, andare in città, fare qualsiasi cosa in mezzo alla gente, andare al cinema, a un concerto, a una mostra. Sono costretta a dormire fuori di casa. In questi mesi sono stata dappertutto. Torno a casa per lavorare, ma a casa sto malissimo. Il problema più grande è trovare un luogo dove non provo dolore. Ho perso il lavoro, ho perso la capacità di fare quasi tutti i lavori. Non posso stare davanti al computer, non posso stare in mezzo alla gente perché hanno tutti i cellulari accesi. Non posso andare a casa di amici, non posso andare al ristorante, non posso andare in albergo, non posso andare in treno, non posso andare in certi negozi che hanno il wifi, alla posta, in banca. Non posso andare in giro perché ci sono le antenne per cellulari. C'era un'antenna della telefonia a 200 metri, non lo sapevamo. Io sono stata malissimo. Quando erano i pazienti col cellulare iniziavo ad avere tremore, tachicardia e disturbi della pressione. Emicrania, cefalea, acufeni, vuoti di memoria, difficoltà a concentrarsi, difficoltà a elaborare il pensiero. Nausea, insonnia, spossatezza. Tachicardia, disordini intestinali e digestivi, mal di testa, fortissimi dolori alle gambe, mal agli occhi e capogiri. I medici non hanno genosticato nulla e le enormi quantità di calmanti non hanno dato alcun risultato. Gli esami sono tutti a posto e i medici non credono al fatto che se io sto vicino a un modem sto male. La causa principale dei miei sintomi è stata l'utilizzo del telefono cellulare e poi via l'esposizione di altri sorgenti, come quelle emesse da Wi-Fi, antenne di telefonia mobile e cordless. Una torre per la telefonia mobile posta a pochi metri da casa mia. Sotto il mio appartamento ha aperto uno studio di un giornalista sportivo freelance. La mia lettera sensibilità è innescata da lo so del telefono cellulare, dalla rete Wi-Fi, cordless e al radar dell'aeroporto. La mia casa è molto esposta alla cima di Montecavo, dove hanno recentemente installato moltissime antenne televisive. La situazione sta peggiorando con i ripetitori 5G nei pressi della mia abitazione. Mi sto trasferendo in un appartamento più riparato, ma la situazione può cambiare da un momento all'altro, vista l'incontrollata proliferazione dell'antenna per la telefonia. Quando ho fatto lo scatto di sensibilità, nessun sintomo di avvertimento? Nessun avvertimento. Una notte mi sono svegliata con una scossa che partiva dalla mano sinistra e arrivava fino al cuore, facendomi sobbalzare con un forte dolore per alcuni secondi. L'eletto sensibilità si diventa improvvisamente, dopo mesi o anni di esposizione. Ecco perché è fondamentale fare informazione e prevenzione sull'uso delle tecnologie wireless. Chi approva l'innalzamento delle emissioni per la telefonia mobile, fa questo a ogni persona elettrosensibile, per sempre. Si diventa intolleranti alle radiazioni elettromagnetiche da un giorno all'altro. Ciascuno di noi può diventare elettrosensibile. Proteggiamoci.